Da oltre 30 anni AS Tecnologie di Sicurezza protegge ciò che ami. Dopo un sopralluogo gratuito e l'analisi del rischio, progettiamo, installiamo e facciamo manutenzione di impianti antifurdo, antincendio, videosorveglianza con videoallarme antirapina e anche automazione di cancelli e porte basculanti per privati, aziende, condomini e comunale. Tecnici specializzati sono sempre al vostro servizio 24 ore su 24. AS Tecnologie di Sicurezza, ci prendiamo cura di voi.